Comincerei da lei, abbiamo detto si parlava in modo ormai esplicito di rischio di dissoluzione dell'euro questa frase si parlava di possiamo declinarla al passato dopo l'esito che abbiamo visto e che molti hanno definito ben superiore all'aspettativa del Consiglio europeo oppure su questa irreversibilità dell'euro l'Europa deve ancora dare delle prove? Sicuramente ci sono ancora prove da dare, la prima prova si chiama Grecia perché in tutte queste cose di cui si è parlato e si è anche deciso in questi giorni però c'è un grande assente che è il problema appunto della Grecia che rischia comunque di esplodere da un momento all'altro sappiamo che fra pochi giorni il nuovo governo greco chiederà una revisione del famoso memorandum finora l'Unione Europea ha sempre tenuto una linea dura cioè di negare una possibilità di revisione e quindi se si arriverà allo scontro è probabile che si arriverà all'insolvenza e all'uscita della Grecia dalla zona euro e quindi a quel punto per definizione la irreversibilità dell'euro sarà messa a dura prova si creerà un precedente molto pericoloso speriamo naturalmente tutti che questo venga evitato nei prossimi giorni nelle prossime settimane che si arrivi ad un accordo tra il nuovo governo greco e la famosa Troica che andrà ad Atene tra pochi giorni un commento, Prelatoni ci ha appena fatto un quadro molto fosco ha detto che sostanzialmente i soldi non ci sono è inutile girarci attorno il fondo salva stati i soldi li dovrebbe comunque prendere dagli stati i debiti sono troppo alti per pagarli integralmente quindi o si stampano soldi, si svaluta, si fanno altre cose oppure queste misure non servono un suo commento ma diciamo che c'è del vero nel fatto che l'unico meccanismo veramente efficace secondo me almeno nella gestione degli spread famosi e anche nella recapitulazione delle banche è un intervento della Banca Centrale Europea diciamo sul fondo salva stati per essere un pochino più precisi l'ESM raccoglierà fondi sul mercato in realtà quindi non è che trarrà direttamente soldi dai bilanci degli stati gli stati forniranno delle garanzie e il fondo emetterà titoli sul mercato e potrà intervenire come sappiamo dagli accordi recenti anche per ricapitalizzare direttamente le banche questa se vogliamo una evoluzione positiva il fatto che si possa prevedere un intervento diretto del fondo salva stati nelle banche piuttosto che passare tramite i bilanci nazionali degli stati che ne faranno richiesta perché in questo modo si evita che lieviti il debito pubblico degli stati interessati come per esempio la Spagna in questa fase è anche vero però che questo intervento diretto potrà avvenire solo quando ci sarà stato un trasferimento di sovranità e cioè riguardante la supervisione bancaria presso la BCE Baglioni, la interroppo solo per chiederle quanto ci vuole fare questo perché ci hanno detto che era fatto in fretta sappiamo che l'Europa è lenta e ha un'inerzia sua piuttosto notevole si riuscirà a fare in tempi ragionevoli questo trasferimento di sovranità su un punto così nevragico ricordiamo che la supervisione continentale sulle banche non è robetta è una perdita di sovranità abbastanza considerevole Certo, diciamo che se c'è la volontà politica cioè se verrà confermata nei prossimi giorni, settimane la volontà politica che è emersa in questi giorni tecnicamente è possibile perché c'è un articolo del Trattato europeo per la precisione il 127 che prevede che il Consiglio europeo possa conferire compiti di sorveglianza vigilanza bancaria alla Banca centrale europea pur dopo aver sentito il parere della Commissione e del Parlamento europeo quindi diciamo che c'è una procedura volendo abbastanza spedita diciamo una decisione da parte del Consiglio europeo quindi un iter che può essere più veloce rispetto al solito modo di decidere dell'Europa che prevede prima una proposta di direttiva da parte della Commissione e poi dopo un'approvazione della direttiva stessa anche da parte del Consiglio e del Parlamento queste cose normalmente implicano anni di gestazione in questo caso tecnicamente è possibile una decisione rapida tutto dipende dalla vera volontà politica di arrivarci